E' di 2.000 euro il bottino rubato da due giovani non meglio identificati ai clienti della filiale Unicredit di Corso Mazzini a Vasto. Il colpo è stato messo a segno questo pomeriggio. I due malviventi hanno prima cercato di compiere la rapina all'interno dell'istituto di credito. Dal momento che le casse erano già chiuse, hanno preteso i soldi dai clienti che si trovavano all'interno della filiale. Subito dopo sono fuggiti a piedi. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sulla porta d'ingresso della banca è apparso il cartello con su scritto chiusura per motivi tecnici. A parere degli investigatori, gli autori della tentata rapina non fanno parte di una banda organizzata.